Stefano Lavarini, è iniziata molto bene la serie, una vittoria su Monza, una grande battaglia. Cosa ha fatto la differenza secondo te? Francamente adesso faccio fatica a analizzare la partita perché è stata un tourbillon di emozioni e anche di alti e bassi nelle varie situazioni di gioco. Credo che non abbiamo mai mollato, concentrata la battuta nel primo set, poi dopo l'abbiamo gestita bene nei successivi. Credo che abbiamo avuto una buona qualità anche nel primo tocco. Al di là di qualche scelta d'attacco che magari potevamo fare meglio, nella quantità di azioni giocate nel volo della partita siamo stati bravi perché siamo stati sempre lì. Abbiamo avuto anche il coraggio di rischiare alcune situazioni che non sempre rischiamo e di conseguenza sono molto soddisfatto, abbiamo cominciato nel migliore dei modi. Era logico che sarebbe stata una battaglia difficilissima e quindi insomma va bene. La prossima si riparte 0-0 però il meglio che potevamo fare oggi l'abbiamo fatto. È stata una partita con tanti errori in alcune fasi però su giocate forzate, sul tentativo di mettere sempre in difficoltà l'avversario sia da parte di Novara che da parte di Monza. Nel finale poi l'asticella si è alzata davvero tanto, non ci sono stati quasi più errori. Sì, beh, questo è vero, fondamentalmente c'è stata una maggior lucidità nei momenti ancora più determinanti, nel tie-break in particolare perché nel quarto, francamente, abbiamo avuto due o tre palle che potevano lasciarci stare davanti e abbiamo scelto male, però poi dopo siamo venuti fuori nel tie-break. Insomma quello che contava stasera era riuscire a mettere la testa avanti e l'abbiamo messo. Grazie, Stefano.